Sì, c'è che a me se ne vuole andare dentro. No, no, io lo voglio. Così? Perché non la so. Riffa! Io mi voto uno posto su. C'è uno quando la mamma che gli esce. C'è uno spazio davanti e il po' salto. Poi rimuono quando i benzi, uno che si è abituato, c'è della favola, là, bene, quando uno lo ha mangiato, possiamo venire. Se ne decina la posto là, è oggi, se ne accompagnate, se ne venite. Non è un'altra, non è un'altra. Come noi, non è un'altra, non è un'altra. Alla pure. Un braccio. Beh, alza quelle orecchiette. Ce ne decina le orecchiette belle, sai? Come sta? Ma mi abbraccia? Non c'è da poco.